Lo spettacolo parla di una coppia che deve affrontare il grande passo del matrimonio e deve ovviamente far fronte a tutte le paure e le ansie che si creano prima del matrimonio. Ovviamente una grande commedia ironizza su quelle che sono le paure, le proiezioni del futuro, su quello che sarà la coppia, su come si trasformerà, come si diventerà. Quindi si fanno una serie di domande che vengono messe in scena, ovviamente in tono molto di commedia, sarà una cosa divertente e si caratterizzano appunto il personaggio maschile e il personaggio femminile in maniera leggermente eccessiva proprio per creare un po' quella piccola ossessione o paura o ansia del futuro che abbiamo un po' tutti quanti. Ti vengono i brividi sapere che qui c'è stato forse il mio autore preferito, la persona a cui ovviamente mi sono ispirato e si è ispirata a tutta la letteratura italiana, il teatro, i testi. Io penso che è uno dei personaggi più interessanti che abbiamo tra la nostra letteratura, ovviamente ce ne abbiamo tantissimi, ma personalmente è quello che più mi stimola e ovviamente non scopri sempre qualcosa di nuovo nel suo modo di scrivere, che è comunque sempre attuale e sempre interessante e stimolante. No, guarda, sono molto molto felice, tra l'altro ieri abbiamo avuto la prima, il teatro è meraviglioso, proprio stupendo, è il palcoscenico, so che è stato da poco ristrutturato, mi stavano spiegando, quindi è sempre un grandissimo piacere lavorare in teatri così belli. Per quello che mi riguarda è la prima volta che recito in Sicilia, la conoscevo per via appunto di Taormina, della consigna dei nastri d'argento, ed è una terra appunto che, come diceva Federico II di Svevia, non mi interessa il paradiso perché posso vivere in Sicilia. E sono molto felice di portare anche uno spettacolo che ha così successo e credo che abbia questo successo perché è davvero un affresco di quello che significa stare in coppia al giorno d'oggi. E gli affreschi solitamente si ammirano e di fronte agli affreschi si riflette che è esattamente quello che si fa davanti a questa pièce. Faremo Messina, faremo una località vicino a Messina di cui adesso mi sfugge il nome, poi siamo stati a Catania e poi andremo in Calabria e continueremo con questo meraviglioso sud. Sì, dopo Non parlare con la bocca piena, che mi ha regalato tante gioie, nove edizioni, più di 40.000 copie vendute, uscirà l'8 maggio il mio secondo romanzo, sempre edito da Rizzoli, che si intitola Mia madre non lo deve sapere.